Secondo me sarà una partita sicuramente interessante da alcuni punti di vista, non mi aspetto ovviamente una partita aperta, spettacolare, magari potrebbe esserlo secondo me solo per una questione di grandi numeri Davide. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Alza tanto Di Lorenzo, però lo alza non dentro il campo, lo alza di fianco, praticamente, molto più laterale di Politano che va invece lui dentro il campo. All'inizio non mi era dispiaciuta questa soluzione, sia contro l'Inter che contro il Real Madrid ho notato che sì, sicuramente ti porta l'uomo in più, sì, sicuramente Politano è più pericoloso quando viene dentro il campo, che quando praticamente va sull'esterno ovviamente, essendo a piedi invertito, però già mi sembra una soluzione vista e rivista e probabilmente... Sì, esatto, esatto. Sì, esatto. Secondo me è attaccato tanto a Quara che poi alla fine ha fatto... io lo vedo bene, lo vedo molto bene e chiudo perché la partita comunque Napoli-Inter fondamentalmente viene decita da Sommer con quell'intervento su una grande sterzata dentro il campo di Quara con il Mancino. Anche a Madrid l'ho visto bene, è un po' isolato, nel senso non c'ha... Zielinski viene un po' dentro il campo e quindi lui lasciando il terzo, il terzino di sinistra, Nathan Oquangisus, molto, molto indietro, quindi non gli dà quella concessione di andare avanti. Siguara è bello isolato nell'uno contro uno, però quando lo isoli bene, insomma, fa ancora la differenza. Io Mazzarri... l'unica novità che ho visto è che gioca il 4-3-3, come credo sia da ordini, non dico contrattuali, ma sia da ordini presidenziali, obbligatorio. Mi sembra una squadra che continua a calciare sempre e troppo spesso in verticale e quindi poi la palla torna indietro perché hanno queste caratteristiche qui e quindi si allungano e vanno in difficoltà. D'altra parte lui la squadra l'ha presa da poco, quindi ancora qualche difetto che aveva evidenziato con Garzia mi sembra logico che ci sia. Poi, a parte questo e quello che diceva Luca, non ho visto tanti altri cambiamenti. Insomma, mi sembra ancora una squadra garziana, diciamo così, con i pregi pochi e i difetti molti di Garzia. Qualcosa, come diceva Luca, sta cercando di sistemare. Però è difficile anche copiare un calcio che pur ha avuto successo in una stagione che è diversa, dove i competitors, visto che si è citato Gagliani, sono diversi, hanno una forza diversa. E soprattutto se questo calcio tu lo copi e non è quello che senti te. Cioè, non mi sembra Mazzarri, nonostante le interviste preparatorie e tutto, che lui possieda proprio, nel senso proprio abbia dentro di sé, quel tipo di calcio che fa spalletti. Che stia cercando in qualche modo di copiarlo, ma insomma è come, non lo so, vendere un quadro e poi una copia. Che per quanto possa essere fatta bene è una copia, non è l'originale. E quindi non so quanto sarà in grado di replicare. Anche perché poi c'è anche il modo di rapportarsi dell'allenatore, gli allenamenti che vengono fatti. E come, ecco, proprio un esempio migliore, che mi viene in mente una vecchia citazione di Sacchi, è quello del cuoco, no? Cioè io posso anche sapere barbieri come cucina, non so, lana tra l'arancia. Però se la faccio io, non viene uguale. E quindi forse è meglio se io faccio una volta il camino, magari mi riesce meglio. È più utile, però mi riesce meglio. Ma quindi Mick, secondo te lo scontro di questo venerdì con la Juve si proverà doppiamente difficoltoso, perché va a incrociare una squadra che invece sta acquistando certezza, comunque una sua solidità, comunque la si voglia definire, è difficile giocarci contro. E quindi si schianterà con un ostacolo che mostrerà i limiti di questo non cambiamento, o di questo, se vuoi, senso di imitazione? Ma io, hanno una settimana in più di lavoro, quindi spero che per loro qualche miglioramento ci sia stato. Però il rischio c'è. D'altra parte con l'Inter si sono schiantati. È vero che ci sono state le parate di Sommer, quella su Elmas e quell'altra su Quaraskelia soprattutto. È vero, però guardiamo il primo tempo, il primo quarto d'ora, venti minuti. L'Inter ha sbagliato gli ultimi passaggi, perché se no ha avuto tre, quattro contropiedi, poteva già essere chiusa la partita dopo un quarto d'ora. Cioè l'Inter ha sbagliato un paio di ripartenze in campo aperto, dove erano tre, quattro giocatori in parità numerica, con un passaggio, l'ultimo passaggio, come si chiama, la rifinitura, fatto bene e l'Inter era già avanti due a zero dopo venti minuti. Se la squadra si allunga così con la Juventus, rischia davvero di essere già sotto dopo venti, venticinque minuti. Sì, sembra un po' una squadra un po' traumatizzata, no, Michele? Credo che parte anche bene, è partita bene a Madrid, è partita bene con l'Inter, è partita abbastanza bene anche con l'Atalanta, ha fatto un buon primo tempo. Mentalmente mi sembra una squadra che in questo momento ha fiducia in Mazzarri, percepisce un po' un cambiamento da quel punto di vista mentalmente. Però è una squadra con dei traumi e quando la vai a stuzzicare probabilmente questi traumi emergono, come diceva Michele, e mi trovo super d'accordo. Anche perché... Ah, scusa, vai, vai. No, no, dicevo, cioè io in questo momento, e questo non lo sappiamo, bisognerebbe essere nello spogliatoio, nella testa dei giocatori, non so se è più la contentezza di avere Mazzarri o la gioia di essersi tolto dalle scatole Rudy Garzia, perché credo che anche questo, in questo momento pesi, cioè i giocatori si siano come liberati di un allenatore con il quale non andavano per niente d'accordo, soprattutto i pezzi grossi, che poi sono quelli che dettano l'umore nello spogliatoio. Diciamo pure che una partita materasso, tra mille virgolette, non avrebbe fatto male, eh. Cioè, preparare una partita ogni tre giorni, un allenatore nuovo che deve lavorare tatticamente su delle robe e quattro partite di questo livello qua, mi sento di spezzare una lancia a favore di Walter. Grande Walter!